Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 27 febbraio al 5 marzo 2023, previsioni e classifica. Siete curiosi di sapere come andrà questa nuova settimana, sul fronte professionale e sentimentale? Volete conoscere il vostro oroscopo settimanale? Lo scopriamo con l'oroscopo settimanale dal 27 febbraio al 5 marzo 2023 di Paolo Fox. Ecco le previsioni e la classifica dei segni zodiacali più fortunati. Cosa ci riserverà il futuro imminente per tutti i segni zodiacali in questa settimana su amore, lavoro, salute, relazioni con amici e parenti? Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 27 febbraio al 5 marzo 2023, ariete, toro, gemelli, cancro. Ariete. 5 stelle per l'Ariete. Venere è dalla tua parte e le novità sono dietro l'angolo. Cerca di lasciarti andare in amore, ma di fare attenzione se vivi più relazioni contemporaneamente. Che ne dici di chiudere del tutto le porte al passato? Sul lavoro, le giornate del fine settimana saranno le migliori, giove e marte sono con te e le belle notizie stanno per arrivare. Giorni positivi, quelli in arrivo, per tutti coloro che vogliono avere un figlio, mentre per il lavoro le giornate migliori saranno quelle di metà settimana. Toro. 3 stelle per il segno del toro. Sei un po' agitato in amore, non sai bene come muoverti e stai vivendo con l'ansia. Fai attenzione alla giornata di venerdì, forse è meglio aspettare marzo per lasciarsi andare all'amore. Sul lavoro, cerca di non strafare perché a breve arriverà una bella occasione da sfruttare. Non farti scappare questa opportunità. In amore nei prossimi giorni ci si sentirà pronti a capire il proprio partner, ma bisognerà fare attenzione a qualche ex, nel lavoro non ci sono freni, ma ora è bene evitare di fare troppo. Gemelli. 3 stelle per il segno dei gemelli. Hai voglia di lasciarti andare all'amore, quindi inizia a guardarti attorno. Alcune giornate sono interessanti, come quella di martedì quando gli incontri saranno favoriti. Sul lavoro, Mercurio è un po' polemico, quindi cerca di mantenere la calma e di contare fino a 10 prima di prendere una decisione. La giornata di martedì sarà con la luna nel segno e si rivelerà molto interessante per i single, sul fronte lavorativo, invece, nei prossimi giorni sarà interessante il settore delle collaborazioni. Cancro. 4 stelle per il segno del cancro. In amore sei un po' diffidente, forse sei rimasto scottato dal passato e quindi devi pazientare un po' e aspettare la seconda metà del mese di marzo. Sul lavoro, Giove è dissonante, ma ancora per poco. Da Giovedì Mercurio inizierà un bel transito e le belle notizie non mancheranno. Se c'è una storia d'amore in dubbio, è opportuno non creare dispute inutili. Nel lavoro bisogna fare i conti con Giove dissonante, ma a breve non sarà più così. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 27 febbraio al 5 marzo 2023. Leone, Virgine, Bilancia, Scorpione. Leone. 5 stelle per il segno del Leone. Cerca di chiudere le porte al passato e di andare avanti. Bene i rapporti con la famiglia e con gli amici, la luna è con te e venerdì puoi lasciarti andare alla passione. Sul lavoro le opportunità non mancano, forse hai finalmente tagliato i ponti con qualcuno, ma ti toccherà fare una scelta importante entro gli inizi del mese di maggio. Ottimo periodo per le coppie che vogliono avere un figlio, nel lavoro, invece, nei prossimi giorni arriveranno opportunità per spazi nuovi. Vergine. 4 stelle per il segno della Vergine. Cerca di valutare bene le persone che ti stanno vicino e di prendere un po' di tempo. Bene la giornata di domenica, ma meglio se ti fai desiderare un po' di più, non essere scontato. Sul lavoro ti toccherà fare una scelta, ma occhio perché Mercurio e Marte sono dissonanti e ti chiedono attenzione per quanto riguarda i soldi. Nella vita di coppia bisogna cercare di risolvere le complicazioni, mentre nel settore della professione è il momento di fare una scelta, tagliare l'inutile e recuperare forza. Bilancia. 3 stelle per il segno della bilancia. Non riesci a ritrovare la serenità e Venere è in opposizione. Cerca di vivere storie part time e occhio ai dubbi, specie nelle giornate di giovedì e venerdì. Sul lavoro, le giornate migliori sono quelle di lunedì e martedì, ma la stanchezza si fa sentire, non fare passi azzardati. Le giovani coppie a breve dovranno affrontare un esborso improvviso, mentre per il lavoro le giornate di lunedì e martedì si riveleranno le migliori. Scorpione. 5 stelle per il segno dello scorpione. Devi fare chiarezza nel tuo cuore, ma mercoledì e giovedì potrai lasciarti andare a una bella emozione. Bene anche i single, basta con il passato. Sul lavoro, devi iniziare a fare scelte pensando al futuro. Saturno dalla prossima settimana sarà con te se c'è qualcosa che non ti piace. Forse, è arrivato il momento di dire basta. Per l'amore si rivelerà interessante il nuovo transito di Mercurio, nel lavoro, invece, ora si possono fare scelte in vista del futuro. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 27 febbraio al 5 marzo 2023. Sagittario. Capricorno. Acquario. Pesci. Sagittario. 5 stelle per il segno del Sagittario. Venere è con te, puoi lasciarti andare alla passione e puoi rimetterti in gioco in amore. Favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, cerca di pensare a come muoverti, hai ricevuto dei riconoscimenti, ma questo non ti ferma. Anzi, ti sprona ad andare avanti. In amore potrebbe risultare più complicato del previsto trovare un equilibrio con pesci e vergine, mentre nel lavoro l'azione impulsiva di Giove aiuterà le iniziative e le scelte più importanti. Capricorno. 3 stelle per il segno del Capricorno. Non sei molto interessato all'amore, che è al secondo piano nelle tue priorità. Forse non riesci a lasciarti andare se non hai certezze, ma devi evitare di discutere giovedì. Sul lavoro, da maggio tutto cambierà, devi solo pazientare un po' e tenere duro, anche se qualcosa non ti piace. Attenzione, nella vita di coppia, a non scaricare la tensione interiore in famiglia, nel lavoro c'è chi ha già ricevuto un premio, mentre per altri le cose cambieranno da maggio. Acquario. 4 stelle per il segno dell'acquario. In amore sei un po' ballerino e cambi spesso idea. Cerca di lasciare andare il passato e di vivere storie un po' all'avventura, senza troppo impegno. Sul lavoro lunedì e martedì sono le giornate migliori, ma occhio alle spese e ai progetti costosi. Meglio non esagerare e restare con i piedi per terra. Nella vita di coppia fare attenzione al rapporto con uno scorpione, mentre nel lavoro da lunedì arriverà una forza maggiore, anche se sono previste molte spese. Pesci. 5 stelle per il segno dei pesci. Hai voglia di lasciarti andare all'amore, di fare nuove conoscenze. Venere è con te e potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma. Chissà. Sul lavoro, il periodo è ottimo e attorno alla giornata di giovedì potrebbe anche arrivare una risposta che attendevi da tempo. Il cielo è con te, ma tutto dipende dalla tua forza di volontà. Che non ti manca. Non si esclude un ritorno di fiamma in settimana, mentre per il lavoro arriva finalmente una fase positiva dopo tanta confusione. Non si esclude un ritorno di fiamma in settimana, mentre per il lavoro arriva finalmente un ritorno di fiamma in settimana. Non si esclude un ritorno di fiamma in settimana.